Buongiorno a tutti, il senatore già presidente della Camera, sempre con noi Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Allora, quali sono i guai di Daniela Santanchè, quartello 11? Allora, indagata per truffa ai danni nello Stato, bancarotta e falso in bilancio, la novità sarebbero questi 126 mila euro di cassa integrazione incassata, mentre i dipendenti in realtà lavoravano e lei e la russa, che vedremo, ha altri problemi, così rispondevano i giornalisti. Sporche, schifose, pratiche. Attacchi vergognosi. Il domani vuole alzare la sticella, quando stanno invece per cadere le incredibili accuse dei giorni precedenti. Non è una conferenza, devi stare zitto mentre finisco di parlare, poi puoi parlare. Siamo 25 aprile, lo farei in Italia, andrà di nuovo a Paglia. Vergogna. E devi vergognare. No, ministro, però non mi ignori così, l'altra volta mi ha risposto perché io mi rispondo anche ora. Visto che lei ha appena intervenuta e le sto dicendo che ha detto una serie di cose... Buona giornata. Pierferdinando Casini, c'è un problema? Il problema, mi sembra che non lo segnala lei, cioè che il problema ci sia, lo segnalano le dichiarazioni ripetute. Io sono garantista per tutti e quando si è garantisti lo si è anche per gli avversari politici. Però quando la Sant'Anché, dalle affermazioni che abbiamo visto, è passata l'altro giorno a dire che se viene rinviata a giudizio valuta l'ipotesi di dimettersi, probabilmente è perché per un problema c'è anche per lei, non solo per noi. Giannini, qual è allora il problema? Il problema, con tutta evidenza, è la somma delle inchieste che si stanno componendo intorno a lei e alle persone che hanno lavorato con lei, a partire dal suo fidanzato. Le ipotesi, anche io sono garantista, siamo tutti garantisti, figuriamoci in questo momento poi, anche se c'è un garantismo a senso alternato da tutte e due le parti che lascia molto perplessi. Però, onestamente, le ipotesi di reato sono piuttosto serie. Quando c'è in campo un'ipotesi di bancarotta, di falso in bilancio. Adesso il rinvio a giudizio, perché ormai ci siamo, la chiusura indagini vuol dire un rinvio a giudizio per una truffa aggravata nei confronti dell'Inps. Insomma, io penso che pur restando garantista, una persona che ha questo tipo di guai giudiziari, anche solo per difendersi meglio nei processi, dovrebbe sospendere la sua attività politica. Speriamo tutti che sarà assolta da tutto, però intanto lascia la presa. Così la pensava anche Giorgia Meloni quando una ministra di Enrico Letta si parlava del fatto che non avesse pagato le tasse. Dimissioni da ministro Iosefa Idem sarebbe un gesto di rispetto verso le istituzioni in macce di più, perché anche Daniela Santan, che proprio sulla Idem diceva che sono cose del tutto incompatibili con l'immagine che aveva voluto dare di sé. Pier Ferdinando Casini, fino a che si parla di ministri, è una cosa. Ma quando addirittura si parla di presidenza del Senato, allora il dubbio sull'opportunità delle dichiarazioni diventa ancora più forte, perché quali sono i problemi cui deve far fronte Ignazio Larussa? Non è lui, ma è la moglie. Vediamo il cartello. Cos'è successo? Comprata dalla moglie di Larussa e dal compagno di Santanchè per 2 milioni e 400 mila euro, la villa che fu del sociologo Alberoni. Un'ora e viene rivenduta a 3 milioni e 400 mila euro, guadagnando un milione. La finanza indaga per riciclaggio, ma in ogni caso... Insomma, lei è stato presidente della Camera, ma nel momento in cui c'è questa operazione, la più lecita e legittima, ma non avrebbe detto lei alla persona vicina che lo sta facendo, guarda attenta che qua qualcosa succede. A me non piace fare i processi alla televisione. Cioè, io voglio avere degli elementi concreti, non mi basta quello che appare sui giornali. Non dimentichiamo che Larussa è la seconda carica dello Stato, è presidente del Senato, io sono senatore... È lui che non se lo dovrebbe dimenticare più che altro. Ho capito, ma lui risponderà, io non voglio fare un processo qua. Ha ragione Casini, non si deve fare un processo, infatti è solo quel dato, un milione in un'ora, ma un presidente del Senato, ma anche molto in meno, non viene a dire, aspetta, perché qua succede un macello. Questo è Gigi Proietti, la mandracata, ve la ricordate? No? Cioè, tu compri una villa di grande livello. Dopo un'ora la rivendi a un milione di più, ma il minimo che ti possa capitare è che la Banca d'Italia fa una delle famose SOS, come si chiamano, no? Segnalazioni per operazioni sospette, perché un milione di plusvalenza in un'ora, ma non si dà in natura. Allora, che la moglie del presidente del Senato faccia un'operazione di questo tipo, per ragioni che non conosciamo, possiamo solo immaginare, come se fosse andare a comprare un pacchetto di sigaretta. Beh, quantomeno è una grave leggerezza, di cui il presidente del Senato avrebbe dovuto sollecitare un po' più di cura da parte di sua moglie. Perché si pensi che il discorso sia chiuso a destra, apponiamoci il problema dall'altra parte. Presidente Casini, ma può un presidente di regione parlare del proprio del sindaco del capoluogo e dire queste cose? Emiliano. Andiamo a casa della moglie, della sorella di Antonio Capriati, che era il buon boss di quel quartiere. E io gli andai a dire, vedi che questo ingegnere, assessore mio, deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine. Te lo affido. Te lo affido. Si può affidare un sindaco a un capomafia? Adesso non voglio cambiare il metro. È una roba che non sta né in cielo né in terra, però francamente dico, soprattutto, no ma qua, mentre lei prima mi ha chiesto valutazioni in ordine a procedimenti in corso, qua non c'è un procedimento in corso, almeno non mi risulta. Qua è un elemento di carattere politico, cioè un carachiri politico. Tra l'altro, se questo che ti sta di fianco è il tuo migliore amico, che è un sindaco obiettivamente specchiato perché ha fatto bene ed è impegnato sul fronte dell'antimafia, ma non puoi trattarlo in questo modo facendo vedere che è il ragazzino di bottega. È assolutamente autolesionista. Giannini. Qui siamo passati dalla mandracata alla sboronata, che è un termine romanesco, ma che però significa questo. Si vede anche dalla prossemica, cioè Emiliano gli mette la mano sul braccio per dire questo è un ragazzino che ho allevato io, no? E io ci so talmente fare con la gente del posto che anche il malaffare... Li difendo io, anche con il malaffare lo controllo io. Quello che cos'è? È un dato di fatto della politica italiana di oggi. C'è sempre qualcuno più populista di te. Questo è populismo. È populismo. Per fare un favore, far vedere che lui controlla tutto di fronte a una platea che lo aspettava soltanto di sentirlo parlare, ha fatto un danno enorme, enorme alla sinistra italiana. E allora le faccio vedere, Casini, la foto che ha fatto il giro del mondo della più rappresentativa delle nostre politiche, Giorgia Meloni, che alla camera si copre la testa e finisce in prima pagina del Wall Street Journal. Eccola qua. Le faccio vedere a cosa... Ecco. Forse è un peccato veniale questo, no? Davanti a tutto ciò. Voglio dire, fa parte di un gesto estemporaneo. Direi che forse il centro-sinistra, l'opposizione hanno argomenti più importanti per opporsi a Giorgia Meloni di questa foto. Giannini. Guarda, io posso capire che per una parte del suo pubblico, e parlo di pubblico non per caso, perché questo è un gesto da influencer di Stato più che da statista, può sollevare un moto di simpatia. Ma se ragioniamo in termini di ragione di Stato, io da cittadino, dalla mia Presidente del Consiglio, in un'aula parlamentare, mi aspetto una solennità, una gravitas. È difficile vedere Mattarella o Draghi nella stessa posizione. Appunto, no, ma Angela Merkel, io appena ho visto la foto ho pensato, ma Angela Merkel al boom de stag, avrebbe mai fatto una roba del genere? Perché poi l'altro dato è questo. Se fosse stato solo un episodio, va bene, dice ok, gli è scappato. Ma Meloni ha trasformato il banco del governo di Montecitorio nel suo palcoscenico. E le faccette, i gesti, nel morfetto. Guardi Casini, facciamo vedere il breve riassunto della camera, prego. Ragazzi, signori, vi vedo sempre un po' nervosi. Vi ho chiamato ragazzi, chiedo scusa, onorevoli, giovani onorevoli. Noi romani ogni tanto facciamo questa cosa. I romani sono meglio di questo, sì, ma dicono ogni tanto ragazzi parlando, no, vabbè. Allora mi scuso anche con i romani, sì. Posso dire ragazzi al governo? No. Va bene, andiamo avanti, perché vedo un certo nervosismo. Non mi guardi con quello sguardo così, diciamo, inquietante. Le posso dire che sbagliare capita, ma sto... Guardi, guardi, gliel'ho detto con il sorriso in bocca. No, andiamo, andiamo a fondo della questione. Non rimaniamo al... Ecco, andiamo a fondo e basta, mi sa, presidente Casini. L'altro giorno, la Meloni è venuta al Senato. Io ero lì, ho anche parlato. Devo dire, ha fatto una relazione discutibile come tutto, ma impeccabile. Le opposizioni hanno fatto interventi costruttivissime. Nella replica, inopinatamente, ha sparato a zero contro il PD, piando, citando, eccetera. Allora, io rifletto. È casuale? Non può essere casuale. Si era arrabbiata? Non c'era motivo che si fosse arrabbiata. Evidentemente, il presidente del Consiglio che oggi abbiamo, contrariamente a quelli a cui siamo abituati, non cerca di unificare il Parlamento, anche quando discute di politica estera. Vuole tenere ben alzato lo steccato che lo divide da una parte dell'opposizione. Fa una polemica che evidentemente, non avendo ragione d'essere, è una polemica costruita artificialmente per dire io sono diversa da loro. Ora, tutto questo può anche far parte del gioco, ma non quando si parla su questioni che oggi sono drammaticamente divisive nel mondo. Siamo in una sorta di rischio di conflitto addirittura nucleare. C'è una proliferazione degli armamenti incredibili. C'è l'Ucraina. Vediamo che i russi, davanti a questo attentato terribile, danno la colpa, ovviamente, in modo del tutto strumentale, all'Ucraina. Abbiamo la questione della Palestina che ieri è al centro delle Nazioni Unite. Bene, non ci si può dividere artificialmente su questo. Bisogna essere lì. Siamo arrivati al punto reale. Discuteremo anche con gli ostiti che stanno arrivando. È strumentale l'atteggiamento, di certo è deciso a freddo, dice per ordinando Casini, ma è scordinato rispetto alla realtà del Paese. Ma assolutamente sì. Questo ha ragione il Presidente Casini. Questo è un format ormai, perché lei ogni volta che parla in Parlamento, scusate il gioco di parole, però fa il primo intervento istituzionale con le cartelline in mano, che legge, ed è impeccabile anche dal punto di vista non solo della forma ma dei contenuti, perché questo va dato atto a questo governo e alla Presidente del Consiglio. Sul piano del posizionamento geostrategico del Paese non ha sbagliato niente. Poi che fa? Poi arriva la replica e lì ritorna, scusate il termine, la coatta della garbatella, lo dico con tutto il rispetto, anche questo uso del romanesco. Io sono romano, a me dà fastidio. Se io sono un cittadino di Milano piuttosto che di Palermo. E perché lo fa? Tu devi rappresentare anche me che non ti ho votato e me che non sono romano. La custodia della diversità. Da un lato, ma dall'altro lato, io sostengo sempre questa tesi citando la favola della rana e dello scorpione, è la sua natura, non ce la fa e lei ogni volta deve ritirare fuori questa sua provenienza di underdog che un tempo stava nelle fogne con l'MSI. Adesso l'ha fregati tutti perché ha preso in mano il governo del Paese e ve la faccio pagare perché voi siete sporchi comunisti. Grazie Massimo Giannini, grazie a Ferdinando Casini. Diamo il benvenuto a Alessandro Ibatini.